Antonio Delle Noci, 57 anni, è stato eletto segretario generale della Filca Cisle Puglia dal Consiglio Generale della Categoria. Delle Noci, sposato con una figlia, ha iniziato il suo percorso in Filca iscrivendosi nel 1999, quando era tagliatore presso l'azienda di Divani Softline. Dopo una serie di promozioni nel sindacato, nel 2013 è diventato segretario generale della Filca Cisle Bari, in carico che ricopre ancora. La situazione in Puglia del settore non è certamente una bella situazione, non è un momento facile per l'edilizia. L'edilizia, come noi sappiamo, viene da una lunga crisi che rispetto ad altri settori non si è ancora effettivamente ripresa. Nella nostra regione ha un assoluto bisogno di lavori in edilizia. In Puglia ci sono più di 50 opere incompiute. A volte questi cantieri sono bloccati per ideologia, battaglie legali, burocrazia o quant'altro. Riaprire questi cantieri significherebbe modernizzare la regione e soprattutto a beneficio dei pugliesi. Quindi il mio impegno sarà quello di essere sul territorio, di sollecitare le istituzioni affinché questi cantieri possano riaprirsi perché il settore ha assolutamente necessità di riattivarsi. Abbiamo tantissimi lavoratori edili disoccupati in cerca di lavoro, che non hanno un reddito e quindi assolutamente tra le altre cose c'è un assoluto bisogno di infrastrutture e quindi non possiamo ancora perderci in queste battaglie ideologiche. Vediamo la TAP, la Maglie Santa Maria di Leuca, quindi dobbiamo andare oltre e cercare di rendere questa Puglia una regione assolutamente competitiva e moderna.